Allora ragazze, mentre ho la tavola apparecchiata di alcuni lavori, rispondo a una delle domande che mi fate più spesso, ovvero qual è il filato, il tipo di cotone o altro materiale che usi per fare il cordoncino in tricotini. Allora, in realtà tutto dipende dall'effetto che volete ottenere, perché potete scegliere o questo qui che vedete qui in bianco è un misto lana e ti dà un effetto più pieno, più cicciottoso, ma anche meno definito. Mentre questo qui, ad esempio, aspetta che togliamo questo pezzettino di filo, questo invece è un cotone, questo nel dettaglio è un cotone con un filino d'argento, che ho già comprato così. Questo è il filo in origine, non so se si riesce a vedere quel filino d'argento dentro. Questo viene sempre un bel cordoncino cicciottoso, come lo chiamiamo noi, però a differenza di questo viene più definito. Dipende tutto dal risultato che si vuole ottenere. Questo è stato realizzato anche con un filato misto lana e soprattutto quando scegliete il vostro filato dovete considerare lo spessore del filo. Ad esempio, questo viola è cotone, questo è il misto lana, sembra leggermente più grosso, però voi vi dovete basare su questi spessori qui, perché altrimenti negli uncini del tricotin, se è un filato più sottile di questo, ti viene un lavoro molto lento, molto lento, largo. Se ne prendi uno più spesso, non lo lavora bene perché si ingarbuglia che lo spessore è più grande di questi uncini qui. Faccio vedere anche qualche altro esempio. Allora, questo è realizzato con un filato leggermente più sottile. Vediamo se riesco a farvi vedere a video la differenza. Si capisce, no? Di fatti il cordoncino viene più lento, molto più leggero. Però, ripeto, in base all'effetto che volete ottenere, può andare bene anche questo genere qui. Questi, ad esempio, sono cordoncini ottenuti con il cotone, le matassine di cotone, questi anche. Questo invece è un altro lana, misto lana, attenzione, perché ovviamente non è tutto lana, è un misto lana. Adesso vi faccio vedere anche l'etichetta da attenzionare. Cioè, cosa devi attenzionare tu quando compri una matassina? Ecco qui, devi attenzionare questa misura. Riesco a metterla a fuoco? Aspetta un attimo. Ok. Niente, non riesco a metterla per bene a fuoco. Comunque, 2,5-3,5 mm lo spessore del cotone. È l'indicazione che ti dà dei ferri, degli attrezzi da utilizzare. Ferri e uncinetto è 2,4. Magari metto una foto e la aggiungo dopo. E basta. Questa è la differenza, sostanzialmente, senza escludere nessuno, tutto dipende dal tipo di lavoro che dovete andare a fare. Grazie. Grazie. Grazie.